Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session di mercoledì 24 maggio su Bitcoin con analisi evoluta. Sono le ore 23.04 e che cosa possiamo dire? Finalmente all'anteprima segue anche la ciccia. Altre volte c'era ben poco da dire se quindi non ho dato seguito all'anteprima. Prima domanda, da qui è partito un nuovo tis settimanale oppure siamo al settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e boh. E qui però un raccordo si dovrebbe tornare sotto ma per ora non sembra proprio. Vedete, mentre eravamo a ragionare sullo scorso video è arrivata questa candela. E io vi ho detto attenzione, perché provare a prendere un coltello che cade può essere rischioso. Infatti cosa è successo? Sì è vero hanno fatto anche questo movimento, una scalpata, uno l'avrebbe potuto fare. Ma se si aspettava una chiusura di ciclo ribassista per ora, per ora, sottolineo la cosa perché si può arrivare fino a 44 barre e noi siamo a 19, per ora non la stiamo vedendo, stiamo vedendo una serie di candele che continuano a salire. Quindi, essendo una persona che è sempre stata abituata a dare senza chiedere niente, vi segnalo che da qui, sì, è stato violato lo swing per la partenza di un nuovo tis settimanale. E quindi è più semplice che il settimanale sia partito da qui e che sia già tutto vincolato ribasso. Eh sì, perché se qui dobbiamo ancora capire se è partito il sesto t-3 ed è vincolato ribasso oppure no, oppure è iniziato da qui e ha fatto il solito raccordo di grado t-4 tra un t-1 e un t-1, che ormai conosciamo sia di inverso che di indice, ecco, una cosa la possiamo dire, che per tutto il tempo che ancora durerà questo t settimanale, e noi continueremo a cercare di aggiornare questo minimo, di andare sotto i 26.067 dollari. Al Google Premium, però, ho fatto fare un altro tipo di lavoro. Uno, il controllo sullo swing, perché, come sapete, senza il fixing, diventa estremamente più fastidioso andare a controllare se effettivamente sulla maggior parte degli exchange non soltanto su quello che utilizzo, è stato violato oppure no, lo swing. Su alcuni magari è più basso, su alcuni hanno fatto anche un massimo superiore a questo, e quindi è un primo lavoro che va assolutamente fatto insieme. Poi, ho fatto fare anche altri ragionamenti, perché, ecco, il discorso è che, da quanto tempo siamo sotto un massimo assoluto? Da quanto è che non torniamo sopra i 32.000 erotti? Vi faccio vedere un altro grafico similare. Qui, su Ethereum, è dal 16 di aprile, ok, che non aggiorniamo il massimo assoluto. Sono la bellezza di 38 barre, 38 giorni in cui non si sale qua sopra. Con 38 giorni abbiamo già un mensile, un mensile d'inverso che lancia che cosa? Che dà vita a che cosa se la terra rialzista, in questo caso l'inverso rialzista, però scende. Eh, diamo vita a un T4 semestrale. Possiamo ancora inserirlo all'interno di questo secondo annuale inverso? Facciamo un conto rapido. Qui siamo a 246 barre. Un semestrale ne dura minimo 96, facciamo quasi 100. 96. 6 più 252 più 90, 90242, au, stiamo sbordando. Stiamo andando oltre il tempo massimo. Tra l'altro vi faccio anche notare che rispetto all'analisi fatta ieri di Ethereum, ok, sta andando come d'attese, ok, avevamo qua la condizione per la chiusura del settimanale inverso e quindi siamo scesi. Ci siamo di nuovo avvicinati al limite inferiore della Kumo, ma questa sera non parleremo di Ethereum, per cui ritorniamo indietro a Bitcoin, ricordandoci che su Ethereum, tra l'altro vi ho detto che nonostante queste risalite, appunto J era stato violato e se fossero arrivati volumi, e poi sono arrivati, avremmo continuato a scendere. E infatti, eccoci qua. Un po' come l'intervento fatto quest'oggi su Investing, se volete vi lascio poi anche il link, avevo segnalato che l'oro poteva iniziare a scendere, è iniziato a salire, ma io avevo dato un ingresso sotto i prezzi che c'erano in quel momento, poi quando è ridisceso, ha toccato il prezzo, si è attivato il trade e noi siamo andati in gain. Torniamo a Bitcoin, qui è tutto da vedere, lato indice, questo è potenzialmente la migliore centratura che abbiamo, da qui è possibile che stia partendo il sesto di meno 3, ma non abbiamo ancora tutto il tempo per dire, per escludere che invece si ritorni sotto. C'è una cosa interessante che però possiamo andare a notare che ci potrà aiutare ovviamente a comprendere in quale delle due situazioni maggiormente siamo e eventualmente pianificare un trade. E qual è? Noi abbiamo soltanto parlato di indice. Ci sono ancora tanti trader che utilizzano l'evoluta, anzi, non l'evoluta, la ciclica base che non tengono in considerazione l'inverso. Noi guardiamo un attimo che cosa sta succedendo di inverso. Ho tolto un punto di domanda rispetto alla precedente centratura se vogliamo fare quelli che osservano con attenzione le cose. Qui abbiamo la condizione necessaria sufficiente per la partenza, anzi, per la chiusura del primo ciclo giornaliero inverso e abbiamo anche quella per l'inizio di un secondo t-3 inverso, il secondo ciclo giornaliero inverso che è arrivato alla bellezza di quanto tempo? 29 barre su massimo sempre 44. Metodo statistico-matematico. non è come Wyckoff Wyckoff l'avevate visto nei precedenti sondaggi alcuni dicono che questa è accumulazione per andare su e continuare a salire altri dicono che questa non è accumulazione e ci si prepara a scendere è un'interpretazione è diverso dal metodo statistico-matematico ho chiesto tante volte a quelli che dicono no, tu non puoi criticare quelli che parlano di Wyckoff perché loro sono troppo eccezionali guadagnano troppo numero uno ok va bene, dimostratelo io non vedo almeno non ricordo analisi di gente che utilizza Wyckoff che faccia analisi pubbliche e che mi dica con Wyckoff dove va mediamente dicono eh, potrebbe essere un accumulo ma potrebbe essere anche il contrario ok, è interessante e quale scegliamo ci sono in Wyckoff nella sua teoria dei modi per capire se univocamente come nella teoria di Hurst se ci si trova di fronte a una possibile accumulazione o a distribuzione se riuscite a rispondere a questa domanda fatelo nei commenti è una cosa importante ok così ci ragioniamo tutti insieme ritorniamo all'inverso ok l'altra possibilità purtroppo con tutti i grandissimi crismi del mondo è questa che il secondo t-3 sia qua abbia chiuso anzi si è iniziato qua e quindi si è arrivato a quanto di tempo di inverso si è arrivato a 16 barre e quindi ne servirebbero ancora almeno 24 minimo 24 in media 32 al massimo 44 in cui provare ad aggiornare i massimi questo massimo qua soprattutto quello appena fatto a 26.493 dollari qui abbiamo il nostro death cross che incombe ma soprattutto la riflessione principale oltre a quella che vi ho fatto fare su ethereum è una da qui sapete che solitamente metto dei punti di domanda ok metto dei nuovo t-3 secondo t-3 eccetera perché qui ho messo nuovo t-inverso forse perché con la discesa con questa forte discesa abbiamo violato uno swing estremamente importante non soltanto per la partenza di un t-inverso e quindi di che ciclo di che grado stiamo parlando che potenzialmente può aggiungersi a una discesa che da un tot di giorni non ci fa ritornare sopra i massimi riflettete su queste cose perché continuo a vedere anzi mi mandano le persone che sono nel gruppo premium mi mandano in continuazione video di altri che si aspettavano rialzo e qui però il rialzo a 30.000 non è arrivato il rialzo a 32 non è arrivato non stiamo tornando sopra i massimi siamo da tot tempo sotto il massimo assoluto e abbiamo violato uno swing che non è soltanto quello per la partenza di un t-inverso ok? spero di avervi dato tanti spunti di riflessione se non avete capito un H di quello che ho detto come al solito potete andare sulla playlist andare a prendervi la la playlist Trading Days un corso completamente gratuito per comprendere che cosa ho detto fino ad adesso altrimenti rischia di sembrare aramaico antico e non è così semplice da tradurre e oltretutto ci sono tante di quelle finezze ormai che sapete che si possono su cui si può ragionare ok? che conoscere le regole di base è un conto iniziare a ragionarci per fare trading è ben altra cosa ok? io intanto come di consueto mi metto un bel allarme qui sotto a 26.067 dollari vi auguro una splendida serata arrivederci grazie a tutti